Oggi vi spiego come prenotare una consulenza. Il primo step è andare sul sito www.naturalditevg.com e cliccare su Consulenza in alto a destra. Inserire i vostri dati personali e creare il vostro account. Una volta fatto, potrete accedere ed iniziare a registrarvi, cliccando su Compila subito. Ora inserite i vostri dati anagrafici e vi comparirà questa schermata. Cliccate su Prenota e per procedere alla registrazione dovete compilare i vari step. Iniziamo dalla sezione Anamnesi, formata da tre step, in cui verranno fatte una serie di domande sulla vostra storia clinica e sulle vostre abitudini alimentari. Passiamo ora alla sezione Test, in cui vi troverete a rispondere a domande fondamentali per l'elaborazione del vostro piano alimentare. Non dimenticate di compilare anche la sezione dei consensi, in cui dovrete allegare il vostro documento di identità ed esprimere la vostra preferenza per la pubblicazione o meno delle vostre foto. Perché non verrà mai pubblicato nulla, a meno che non siate voi a darne il consenso. Finalmente siete pronti per prenotare la vostra visita in studio, online o una preconsulenza per le sedi di Roma, Milano e Firenze, scegliendo autonomamente data e ora. Infine cliccate su Dettagli di prenotazione e potrete visualizzare il voucher di promemoria con tutte le indicazioni e i costi.